ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi è arrivato un nuovo aggiornamento di pick up fd il come devo dire zero gravity del 2022 allora io sono purtroppo un voltus perché hanno aggiunto cose nuove del 2000 invece del 2021 mi piace più voltus come flame e quindi sono ora un voltus spero che mi piaccia guardate che sono queste oddio che bello spero che lo faranno un altro zero gravity comunque tanto mi trovo male comunque è da tanti giorni che non faccio video e finalmente li faccio ora come faccio a fare ok sono da tanti giorni che non faccio video e finalmente li faccio vedete quante cose hanno aggiunto poi vi devo mostrare una cosa che stiamo vincendo noi voltus perché stiamo lavorando molto sodo però però non ho la più pallida idea che perché lì c'è c'è come posso dire lì c'è un scritto che si aprirà un'ora è già passato un'ora io ho aspettato ben due ore e non ha funzionato poi ci sono nuovi pulsanti qua sul cellulare qui tra due giorni qui tra nove giorni tra 16 giorni e tra 21 giorni quanto mi trovo male con il cellulare e questo non è il mio tablet perché ho fatto così vabbè basta ok allora hanno aggiunto anche nuovi giochi e hanno aggiunto anche l'event passi ecco sto molto indietro sto l'uno sto però guardate che bello io ho già completato tutto infatti questo è l'outfit dell'outfit del 2021 poi quello del 2022 è lo stesso vabbè ora guardate vi faccio vedere dei nuovi giochi vedete così spero di sì così mi trovo male però vabbè allora sono caduto no ora devo rifare tutto da capo quanto ci ho messo ci ho messo 15 miliardi di anni fa 15 miliardi e sì così la terra esplode vabbè vabbè ho quasi 17 anni non so posso giocare dai questo è il avete presente quei giochi che fanno tipo ci dice la piattaforma può devi fare sì è un aggiunto su picca pezzi meh allora e qui potete vedere a destra e a sinistra sto guardando a sinistra è finito ma io non lo faccio perché mi trovo molto male poi però non ho capito una cosa non ho già sta tossa allora se sentite questo rumore è Chloe che gioca con il tira graffi se voi non conoscete ancora Chloe è la mia gatta aspetta aspetta ma sono scemo ecco allora ora devo andare a un'altra parte quindi mi devo sbrigare a fare questo video mi ha durato 5 minuti non è utile forte poi non ho la più palida idea che c'è qua guarda io vado eh perché mi fa così oddio oddio provo a farlo provo a farlo provo a farlo provo a farlo no no ci ho fatta no 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 così va bene ragazzi il video finisce lo stesso qui Spero che vi sia piaciuto Allora, vediamo se hanno aggiunto una cosa Ah, lo sapete, guardate quanti soldi c'ho Sì, presto mi comprerò Se vedete, le gemme sono diminuite perché ho comprato un sacco di cose Allora, qui c'è l'armatura che costa pochissimo Piffa, io me la voglio comprare Allora, no, no, pet ce le ho già a breccio Allora, hanno aggiunto anche nuove posizioni Il blu, non so come si Chiamano, c'è questa che è della vittoria Poi c'è questa è del flame E questa è del vault Ah, e poi vi dico che è uscito un nuovo codice Allora, ve lo dico Così, così lo potete vedere Sì, giamma Sì, giamma Ok ragazzi, il video finisce qui Ora questo va bene Copiatelo Ci vediamo al prossimo video A me non mi fa perché l'ho già fatto Però vi faccio vedere la maglietta Allora, mi devo andare Ok, vi faccio vedere la maglietta e finisce Eccola qui Di più che pezzi di giorni E con dietro il flame Allora, ragazzi Il video finisce qui Spero che vi sia piaciuto Lasciate like Attivate la campanellina Iscrivetevi E grazie per i 21 iscritti Grazie mille Ci vediamo al prossimo video E... Ciao Ciao